Die Übersetzmann tedesco in Deutsch. Come si traduce tedesco in tedesco? Nel senso, quando è aggettivo, quando si riferisce alla lingua, quando si riferisce all'abitante. Nel video precedente abbiamo visto due grandi gruppi per quanto riguarda gli abitanti, quando si parla di nazionalità. Abbiamo visto che alcuni abitanti maschili termino in ER, come per esempio der Italiener, che poi è invariato al plurale, quindi der Italiener, di Italiener. E abbiamo visto anche che il femmine si formava aggiungendo in, quindi di Italienerin, e il plurale poi con in. Abbiamo poi visto che c'era un altro grande gruppo, di quelli che finiscono in E, come per esempio der Franzose, il plurale veniva ottenuto aggiungendo la N, e il femminile con l'aggiunta di in, togliendo prima la E, quindi di Chinesen. E poi abbiamo visto l'eccezione di Franzose, il plurale era anche qui con Nen. Per quanto riguarda il tedesco, come vedete, non fa parte né del primo né del secondo gruppo, perché è una categoria tutta parte. Purtroppo il tedesco, anche per quanto riguarda la nazionalità, ci crea un po' di problemi. Partiamo dalla nazione, Deutschland, la Germania. Come vedete, non c'è l'articolo, anche se in italiano si dice la Germania, Hans kommt aus Deutschland, quindi Hans viene dalla Germania. Abbiamo una nazione con articolo neutro, con genere neutro, ma appunto l'articolo non si usa. Anche in questo caso, Deutschland ist ein Bundesstaat in Mitteleuropa. La Germania, in italiano devo sempre usarlo, è uno stato federale dell'Europa centrale. Anche quando è combinato con delle preposizioni, non userò appunto l'articolo. Per fare nach Deutschland, oppure meine Freunde wohnen in Deutschland, miei amici abitano in Germania, andiamo in Germania. Ci sono alcune nazioni, come per esempio die Schweiz, che invece hanno un articolo femminile, e questo lo si usa sempre. Quindi, per fare in Indischweiz, meine Freunde wohnen in der Schweiz. L'articolo in tedesco si usa in combinazione dell'aggettivo, cioè quando io ho un aggettivo e ho uno di questi sostantivi o questi paesi neutri, come praticamente tutti quelli che sono neutri, la Germania, l'Italia, no? Deutschland, qualsiasi paese ha praticamente l'articolo neutro. Ma abbiamo detto che non si usa. Ecco, si usa soltanto quando è combinato ad un aggettivo. L'avevamo visto da Schöne Italia nei video precedenti, adesso vediamo la Germania riunificata. Ecco, qui devo usarlo, das Vereinigt Deutschland seit 1990, quindi è riunificata. Qui abbiamo il nostro aggettivo, sarebbe un participio passato, Vereinigt, che poi è stato appunto diventato un aggettivo e viene appunto declinato. Anche nell'esempio sotto abbiamo Deutschland, abbiamo appunto l'espressione nella Germania di oggi, attuale. Heutig deriva da heute, è l'aggettivo di heute, heute è la verbita, non c'è, dovremmo tradurre con attuale, di oggi. Ecco, notate che poi si usa l'articolo, qui lo si vede parzialmente perché appunto nella preposizione articolata sarebbe in dem, che poi si dice im, im heutigen Deutschland, qui nell'attuale Germania. Ecco, manteniamo la suddivisione in aggettivo, abitante e lingua, come abbiamo fatto per gli altri video per comodità, anche se non è la stessa cosa. Qui abbiamo un esempio di deutsche Sprache ist schön, Deutsch è un aggettivo, la lingua tedesca ist schön, bella, in italiano poi bisogna declinare, in tedesco no perché è schön, è in funzione predicativa. E poi abbiamo l'abitante, Hans ist deutscher, è tedesco, in questo caso deutscher è stato declinato come se fosse un aggettivo, perché infatti è un aggettivo sostantivato, infatti al femmine diventa Anna ist deutscher. Questa è la terza tabella, quindi quella che non è preceduta da nessun articolo. Chi avesse problemi può consultare il video sulla declinazione di aggettivi, cioè sono diversi, quello in particolare senza articolo in questo caso. Però io posso praticamente usare qualsiasi tabella, anche quella con l'articolo determinativo, se voglio dire der Deutsch ist pünktlich, il tedesco è puntuale, in questo caso uso la prima. Quindi vedete che la desinenza di Deutsch cambia a seconda dell'articolo che uso. Quindi se metto ein, avrò er, ein deutscher, un tedesco, se metto dir, avrò la e, der Deutsch. E se non metto articolo, quindi userò quella del terzo gruppo, quindi deutscher al maschile e deutscher al femminile. Quindi si declinà come se fossero aggettivi, è un aggettivo a tutti gli effetti, e quindi non è più come prima, anche se sembra che finisce in R, in realtà è un caso, perché è semplicemente la declinazione dell'articolo, dell'aggettivo, del terzo gruppo. Poi abbiamo anche la lingua, quindi quando abbiamo Deutsch, maiuscolo, quindi parla frequentemente il tedesco, anche qui il tedesco, metto l'articolo, in tedesco normalmente non c'è. Abbiamo visto che Deutsch si declina come un aggettivo. Vediamo ancora le declinazioni. Partiamo dal maschile, questo è il primo gruppo, sono quindi aggettivi sostantivati. In pratica è come se noi abbiamo un aggettivo che dobbiamo declinare. E' così che funziona infatti la declinazione dell'abitante per la Germania, per dire il tedesco. Ecco, abbiamo quindi il nominativo der Deutsch, quindi abbiamo, potrebbe essere der Deutsch Mann, der Deutsch Bürger, quindi der Deutsch. Si usa semplicemente l'aggettivo e si scrive in maiuscolo. Den Deutsch, all'accusativo, al tedesco dem Deutsch, del tedesco des Deutsch. Per il plurale, i tedeschi, di Deutsch, all'accusativo uguale, di Deutsch, ai tedeschi den Deutsch, qui abbiamo la n del dativo plurale, e dei tedeschi, der Deutsch, al genitivo plurale. Se volessimo usare l'articolo indeterminativo, abbiamo ein, quindi seconda tabella, ein Deutscher, einem Deutschen, einem Deutschen e eines Deutschen, quindi un tedesco, ha un tedesco per il dativo, e di un tedesco. Non c'è il plurale, evidentemente, dell'articolo indeterminativo, dovremmo usare la tabella del terzo gruppo, quindi quella che non è preceduta da niente, quindi sarebbe Deutsch alla plurale, per esempio del nominativo. Per quanto riguarda il femminile, la stessa cosa, abbiamo appunto anche qui la desinenza del femminile, però, della lezione aggettivo, quindi di Deutsch la tedesca, di Deutsch la tedesca l'accusativo, della tedesca l'ultimo, il genitivo, der Deutsch, e alla tedesca der Deutsch, il dativo. Per quanto riguarda i plurali, le tedesche, è uguale, non c'è distinzione tra il plurale del maschile e del femminile per quanto riguarda gli aggettivi, quindi di Deutsch, può essere le tedesche o i tedeschi, di Deutsch all'accusativo, alle tedesche den Deutsch e delle tedesche der Deutsch, che comunque è anche uguale per il plurale al maschile. Quindi declinare l'abitante tedesco, declinare l'aggettivo è la stessa cosa, quindi se sapete declinare gli aggettivi, sapete declinare anche il sostantivo Deutsch. L'unica differenza è che con la minuscola se è un aggettivo, quindi se io voglio dire un autore tedesco, dirò ein deutscher Autor war Heinrich Pöll, e se voglio dire semplicemente un autore, scusate, un tedesco, dirò ein deutscher, un tedesco, senza mettere autore, quindi mettendola D in maiuscolo. Questa è la distinzione tra l'aggettivo e l'aggettivo sostantivato. La lingua tedesca, die deutsche Sprache, ist schön, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ist schön. Qui abbiamo anche un esempio del Deutsches Museum, qui è l'esempio neutro, terzo gruppo, la D è in maiuscolo perché è il nome del museo, quindi va comunque in maiuscolo, Deutsches Museum. Qui abbiamo un'altra banca, una banca tedesca, quindi anche qui è in maiuscolo perché è il nome della banca, Deutsche Bank, se volessi mettere l'articolo D diventa D Deutsche Bank, e questo sicuramente riconoscete, D B sta per D B, Deutsche Bahn, verovie tedesche, Deutsche Bahn. Poi abbiamo detto che tedesco può essere anche la lingua, morgen haben wir zwei Stunden Deutsch, morgen haben wir Deutsch, quindi tedesco, in quanto lingua, è neutro, Deutsch, ecco la differenza che qui è in maiuscolo, è come l'aggettivo ma è in maiuscolo. Ich unterrichte Deutsch am Gymnasium, insegno tedesco al liceo, e quando abbiamo appunto questa costruzione particolare, ich habe den Artikel in Deutsch übersetzt, si tene appunto a mettere, a declinarlo come un aggettivo, perché esiste anche questa variante, anche das Deutsch, Das Deutsch ist eine germanische Sprache, posso anche dire Deutsch ist eine germanische Sprache, però esiste anche questa variante con das Deutsch, per questo che poi quando c'è la preposizione, appunto, è obbligatorio inserirla in questo modo, ich habe den Artikel in Deutsch übersetzt, ho tradotto l'articolo in tedesco, Übersetzt è un verbo inseparabile. E siamo giunti al riepido, come ho visto che Germania si traduce con Deutschland, che si usa normalmente senza articolo, a meno che sia accompagnata da aggettivi, come per esempio das Vereinigte Deutschland, oppure im heutigen Deutschland, che in questo caso poi appunto viene concordato anche l'articolo, in questo caso la preposizione articolata in dem, quindi im, quando vogliamo desegnare appunto l'abitante, non usiamo nessuna delle due categorie, perché appunto tedesco ha, la categoria tedesco ha una categoria tutta sua, è l'unica praticamente, l'unico abitante che non usa né una né l'altra, ma praticamente usa la declinazione dell'aggettivo, considera praticamente gli aggettivi, come se fossero i sostantivi appunto, come se fossero gli aggettivi, e quindi in italiano si parla di aggettivi sostantivati, abbiamo appunto aggettivi come nome, si potrebbe dire anche, e quindi si usano le tabelline delle declinazioni degli aggettivi, quindi primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo, qui abbiamo l'esempio del primo gruppo per il maschile e per il femminile al singolare e al plurale. Quando appunto un aggettivo si deve declinare, si scrive in minuscolo, ein deutscher, autor, e se invece voglio usare l'aggettivo sostantivato, dirò semplicemente ein deutscher, senza mettere più autor, ma mettendo deutsch in maiuscolo, quindi ein deutscher. Quando voglio usare la lingua, dirò semplicemente, deutsch in maiuscolo, e attenzione, quando abbiamo l'espressione, tradurre in tedesco, si deve appunto mettere la E. Ich habe ins Deutsch übersetzt. Ich habe in artikel ins Deutsch übersetzt.